Buonasera a tutti, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico commerciale per alcune regioni d'Italia. Vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato agli approfondimenti normativi in termini di privacy applicati all'installazione e all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urmet per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso e durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi immobili troverà la sezione domande selezionando l'icona del punto interrogativo. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o da smartphone o nella sezione documenti all'interno della dashboard tramite il pc. Inoltre essendo un corso dal vivo potrebbe avvenire una chiusura improvvisa del webinar. Nel caso in cui dovesse accadere vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o della mail di conferma iscrizione o nella mail di prima memoria di questa mattina. Passo ora la parola al dottor Luciano Corino, esperto di GTPR, regolamento generale sulla protezione dei dati, che ci porterà alla scoperta della legge della privacy applicata ai sistemi di videosorveglianza. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. A lei dottore, grazie. Grazie, grazie a lei dottor Marini, buonasera a tutti i partecipanti. Allora, trattiamo un pochino questo tema della protezione dei dati personali. Io prima di entrare nello specifico dell'argomento, vale a dire la ricerca dell'equilibrio tra sicurezza e rispetto della privacy nei sistemi di videosorveglianza, vorrei spendere due parole introduttive, giusto per ricordare una cosa che ritengo di fondamentale importanza. Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto, non è burocrazia, è un diritto di libertà. L'obiettivo di questa norma è tutelare le libertà e i diritti delle persone fisiche. Tanto più in un'epoca come la nostra, in cui i dati personali, cioè tutte le informazioni che in qualche maniera parlano di noi e ci descrivono, costituiscono prima la materializzazione e poi la rimaterializzazione digitale delle nostre persone. Noi perdiamo la nostra fisicità per assumere una dimensione particolare che è costituita dall'insieme mostruoso, lasciatemi dire, di tutti i dati che in giro per il mondo, su per i cloud, da qualche parte, ci descrivono nelle nostre caratteristiche fisiche, nelle nostre abitudini, negli nostri stili di vita. Ecco perché la protezione dei dati personali è un diritto di libertà. Perché se questi dati, questa nostra descrizione, proiezione digitale finisce nelle mani sbagliate, viene utilizzata per fare qualcosa che va contro i nostri diritti, le nostre libertà, forse ci avviamo davvero verso una pericolosissima società in cui qualcuno direttamente o addirittura attraverso delle macchine riesce a pilotare la nostra vita. Fatta questa premessa, vorrei ricordare che anche le immagini sono dati personali, anzi sono dati personalissimi perché attraverso un'immagine io riconosco la persona. La definizione di dato personale è quella che vedete in questa slide, qualsiasi informazione direttamente o indirettamente riconducibile a una persona fisica anche con l'utilizzo di altre informazioni. Quindi un'immagine priva di un nome e un cognome è comunque un dato personale perché in qualche maniera utilizzando magari altri dati, altri elementi di informazione io sono in grado di identificare questa persona. I dati personali possono essere dati personali comuni, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, la stessa immagine è un dato personale comune, oppure possono essere categorie particolari di dati, quelli che una volta si chiamavano dati sensibili adesso si chiamano categorie particolari di dati. Tra queste categorie particolari di dati che conosciamo essere l'opinione politica, religiosa, sindacale, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, dobbiamo considerare con particolare attenzione quando parliamo di sistemi di trattamento di immagine e di videosorveglianza i dati biometrici perché su questa particolare categoria di dati torneremo più avanti nel corso della nostra conversazione. Il principio generale stabilito dal GDPR è che queste categorie particolari di dati non possono essere trattati se non con alcuni presupposti ben chiaramente individuati e specificati dal GDPR stesso. Il concetto generale dunque è che i dati comuni li puoi trattare, i dati speciali no, a meno che non ci sia una base giuridica, si chiama tecnicamente così, cioè un principio di legittimazione di quello che stai facendo. Che cosa si intende con la parola trattamento? Tutto, qualsiasi operazione o insieme di operazione compiuta sui dati. Voi vedete nella definizione che ad un certo punto viene usata la parola uso. L'uso dei dati, la diffusione, la cancellazione, la consultazione, l'utilizzo appunto. Quindi quando io o manipolo in qualche maniera dei dati personali tra cui le immagini sto facendo un trattamento di dati personali. Le norme che disciplinano il tema della videosorveglianza più in generale del trattamento delle immagini sono le quattro che vedete, il GDPR, il provvedimento del garante del 2010 che credo ormai tutti quanti conosciate più o meno a memoria, lo statuto dei lavoratori che è la norma che si applica anche insieme al GDPR e al provvedimento quando i sistemi di videosorveglianza sono utilizzati nell'ambito dei luoghi di lavoro e infine, e questa è la grande novità, ci sono le linee guida del European Data Protection Board, nuove perché sono state pubblicate in via definitiva all'inizio del 2020 e queste linee guida introducono alcuni elementi di novità che non possiamo non considerare. Il GDPR è un testo normativo piuttosto complesso, costituito da 99 articoli, da 173 considerando. L'articolo 5 è quello fondamentale, a me piace dire, lo dico in effetti con una certa frequenza, che il legislatore poteva limitarsi a scrivere l'articolo 5 perché l'articolo 5 dice tutto, è il principio fondante, fondamentale, quasi anche esaustivo del GDPR. I principi che devono essere rispettati quando si effettua un trattamento di dati sono quelli enunciati dall'articolo 5. Il più importante è quello che vedete scritto al fondo, il principio di responsabilizzazione, che in inglese suona meglio accountability. Accountability vuol dire che il titolare di un trattamento deve essere in grado di dimostrare che quello che fa è conforme al GDPR e deve anche documentarlo. Quindi tutto ciò che si mette in atto quando si fa un trattamento deve trovare conformità e riscontro in un documento, in una scelta, un qualcosa di concreto che si possa vedere toccare. Gli altri principi sono tutti molto importanti, ma io vorrei focalizzare la vostra attenzione su due principi fondamentali, soprattutto quando si parla di videosorveglianza. Il principio della minimizzazione dei dati, cioè se un dato non mi serve non devo raccoglierlo e non devo trattarlo. Devo raccogliere e trattare solo ed esclusivamente i dati che mi servono davvero. L'atteggiamento del ma sì raccogliamo anche questo dato, magari prima o poi ci servirà, non è ammesso, è proprio un illecito ed è un illecito particolarmente grave perché le sanzioni che sono pesanti sono particolarmente pesanti quando riguardano le violazioni dell'articolo 5. L'altro principio da rispettare è fondamentale. Qui non lo riconoscete probabilmente perché è quello enunciato nel titolo. Il principio del bilanciamento degli interessi, qui è scritto nella seconda riga, correttezza rispetto delle reciproche esigenze. Mi piace di più bilanciamento degli interessi. Che cosa vuol dire bilanciamento degli interessi? Focalizziamo la nostra attenzione sul tema del webinar, cioè gli sistemi di videosorveglianza. Da un lato abbiamo l'interesse di un titolare di trattamento, che sia un'azienda, un negozio, una palestra, una parrocchia, un ospedale, poco importa. C'è qualcuno titolare del trattamento, cioè qualcuno che vuole usare, che vuole fare quel trattamento di videosorveglianza. Perché lo vuole fare? Beh, ha degli interessi solidi per farli, che sono quelli della tutela del patrimonio, delle indagini difensive, sicurezza, sicurezza in generale, sicurezza sui luoghi lavoro, sicurezza anti-intrusione. Ma dall'altra parte ci sono degli individui che vengono ripresi dalle telecamere. Ora, noi sappiamo, non solo perché ce l'ha detto l'autorità, ma perché ognuno di noi lo può vedere, che l'uso delle telecamere, l'essere ripresi da una telecamera, modifica comunque i nostri comportamenti. Non solo li modifica, ma li può anche condizionare pesantemente. Tutte le volte che io passo davanti a un condominio che ha la telecamera fuori dal portone, puntata sull'ingresso, penso, ma se chi abita in questo condominio volesse portarsi un amante in casa, lo deve proprio far sapere tutto il condominio? E se le registrazioni di questi eventi vengono conservati nel videoregistratore per giorni e giorni, la probabilità è che vengano a saperlo tutti i condomini, l'amministratore di condominio, i vicini del condominio e i condomini annessi, diventa assolutamente alta. Quindi è mio diritto non essere ripreso quando non vorrei essere ripreso, quantomeno avere la garanzia che a quelle immagini registrate non acceda tutto il condominio, ma solo una persona autorizzata, che questa persona autorizzata sia vincolata da un patto di riservatezza, che le immagini vengano cancellate rapidamente in modo che non ci sia la possibilità di andare a ravanare nel mio passato. Come vedete sono due interessi contrapposti, di pari dignità, non dobbiamo esprimere dei giudizi morali. Uno è libero di fare quello che vuole e di portarsi a casa su a chi vuole e l'altro ha l'interesse e la voglia di videoregistrare. Questa contrapposizione noi la troviamo sempre, questa contrapposizione di interessi. Dunque è di fondamentale importanza. In generale quando si effettua un trattamento, ma in particolare quando questo trattamento consiste nella videosorveglianza con o senza videoregistrazione, è di fondamentale importanza fare tutto il possibile per garantire questo bilanciamento degli interessi. Un altro principio che è un corollario di una cosa che abbiamo già visto e detto è la privacy by design. Privacy by design vuol dire progettare che cosa? Qualsiasi cosa. Una procedura, un sistema, un prodotto, un'operazione di marketing, non importa. Qualsiasi cosa che coinvolga un trattamento di dati personali deve essere progettata partendo dal principio di minimizzazione dei dati e di protezione di questi dati. Fino a ieri molto spesso nelle aziende, lo sappiamo perfettamente, le cose venivano fatte, poi c'era qualcuno che si svegliava, alzava il dito, diceva bisogna anche tener conto della privacy e tutti a dire oh porca miseria c'è anche questa rottura di scatole di cui ci siamo dimenticati. Ora non è più così. Non è più così per norma di legge. Bisogna documentare. Ricordate quello che ho detto in precedenza. Non basta dire sì sì io ho fatto la privacy by design. Me lo documenti? Che tipo di analisi hai fatto? Dove stanno questi documenti? Che documentano, perdonate il vestizio di parole, che tu hai fatto la privacy by design. Quindi progettare per impostazione, minimizzazione predefinita. Insieme alla privacy by design c'è la privacy by default. Privacy by default, se vogliamo possiamo vederlo come un corollario, vuol dire organizzare le cose che si fanno, le procedure, i sistemi, i progetti, facendo in modo che ai dati, ai dati raccolti, registrati, utilizzati, eccetera, accedano solo le persone che hanno effettivamente la necessità di utilizzare quei dati. Se in un ospedale il personale amministrativo non ha necessità di accedere alle cartelle cliniche, non deve proprio averlo quest'accesso. Non è che glielo diamo perché non si sa mai o perché se deve fare una fattura fa più in fretta andare a vedere sulla cartella clinica piuttosto che telefonare al reparto per avere delle informazioni. Non funziona così. Deve accedere al dato solo chi ne ha effettivamente necessità. Quindi, mi riaggancio, consentitemi, all'esempio del condominio, le immagini riprese dalla telecamera del condominio non possono essere viste da tutti gli amministratori, i condomini che semplicemente lo richiedono perché hanno voglia di curiosare, di mettere il naso negli affari altrui con qualsiasi scusa. Quelle immagini possono essere viste solo ed esclusivamente da qualcuno che sia legittimato a farlo, autorizzato a farlo e ciascun condomino ha la possibilità di chiedere, di visualizzare delle registrazioni che riguardano solamente se stesso. Questo è il principio della privacy by default. Quali sono le finalità messe per un titolare che voglia installare un sistema di videosorveglianza? Dal provvedimento dell'autorità garante sono quelle che vedete qua. La novità è l'uso dei sistemi di video, diciamo così, anche per fare della prevenzione in ambito sanitario. E' quello che è successo attraverso il protocollo di attuazione delle norme di prevenzione dell'epidemia. Quando il nostro governo scrive in un pezzo di carta che è legittimo controllare la temperatura di chi entra nel luogo di lavoro, dipendenti, clienti, fornitori, che lo si può fare utilizzando dei termoscanner o delle termocamere, purché queste termocamere rispettino determinati principi, aggiunge di fatto il punto 5 a questa slide. I sistemi di trattamento delle immagini possono essere utilizzati anche per fare della prevenzione in ordine al principio di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro fissati dal decreto legislativo 81 del 2008. Questa slide riporta due esempi meno intriganti, se vogliamo, nel bilanciamento degli interessi. Primo esempio, una società di parcheggi privati ha documentato i problemi ricorrenti di furti alle auto parcheggiate. Il parcheggio è uno spazio aperto e facilmente accessibile a chiunque, ma è chiaramente segnalato con cartelli e blocchi stradali che circondano lo spazio. La società di parcheggio ha un interesse legittimo, prevenire i furti, ovviamente, nelle auto dei clienti e monitorare l'area durante l'ora del giorno in cui si verificano i problemi. Gli interessati, cioè i clienti, coloro che portano l'auto lì al parcheggio, sono monitorati in un periodo di tempo limitato. Non si trovano nella zona scopo ricreativo ed è anche nel loro stesso interesse che i furti siano evitati. L'interesse degli interessati a non essere monitorati in questo caso viene superato dall'interesse legittimo del trattamento e quindi un sistema di videosorveglianza, lo sappiamo benissimo anche prima di questo esempio, lo sapevamo, che questo tipo di installazione è assolutamente legittimo. L'altro esempio, che invece è un caso reale, è un caso accaduto, non è un'invenzione, è un ristorante che decide di installare le videocamere nei bagni perché è stufo di rincorrere la maleducazione dei clienti e quindi vuole vedere chi lascia i servizi in disordine o addirittura sporchi e quindi mette la telecamera per controllare l'ordine dei servizi igienici. E' chiaro che in questo caso siamo nella situazione opposta. L'interesse degli interessati a non essere ripresi in quelle situazioni prevale sul legittimo interesse del titolare del ristorante a evitare di dover pulire continuamente i disastri fatti dai clienti e quindi in questo caso le telecamere furono fatte rimuovere. Furono rimosse e furono fatte rimuovere. Il periodo di conservazione delle immagini, per il motivo che abbiamo detto prima, bilanciare gli interessi, devono essere conservate per un brevissimo tempo. Nel provvedimento dell'autorità garante, quello del 2010, di cui dicevo in precedenza, si dice che le immagini devono essere conservate più o meno per 24 ore, salvo la possibilità di prolungare il periodo di conservazione delle immagini fino a 72 ore nel caso di chiusura dello stabilimento, dell'ufficio al venerdì sera, riapertura a lunedì mattina. Se voi fate due conti si arriva largo circa alle 72 ore. Io a lunedì mattina mi devo poter accorgere di qualcosa che è accaduto il venerdì sera. E' possibile prolungare i tempi di registrazione delle immagini fino a sette giorni, e posso conservare sette giorni, se ho dei validi motivi. Validi motivi non sono solo l'interesse mio, attenzione. E' un valido motivo bilanciamento degli interessi, deve coincidere con l'interesse dell'interessato. L'esempio di un silos di materia prima in un'azienda alimentare, o un silos il cui contenuto si svuoti in sette giorni, per esempio, se voglio monitorare questo sito, se per controllare che non subisca atti di sabotaggio, è chiaro che la conservazione delle immagini io la devo fare per tutti i sette giorni in cui si svuota il silos, perché se il sabotaggio mi viene all'inizio del ciclo produttivo e io cancello le immagini, dopo 24 ore non sono in grado di andarle a recuperare. In questo caso il mio interesse di titolare, di proteggere i miei beni, coincide assolutamente con l'interesse non solo di chi dovesse essere ripreso, ma l'interesse della collettività, perché attraverso l'uso di questo sistema di videosorveglianza io tutelo la salute di tutti i miei clienti. Quindi è possibile prolungare i tempi di conservazione fino a sette giorni se ci sono dei validi motivi. Per superare questo limite, questa barriera dei sette giorni occorre essere autorizzati dall'autorità garante o occorre presentare un'istanza all'autorità garante motivandola naturalmente. Se la motivazione è solida, il garante concede l'autorizzazione. Che cose? Avevo anticipato che avremmo parlato di dati biometrici, avremmo ripreso questa categoria di dati speciali. Vediamo la definizione di dato biometrico. Il GDPR ci dice che i dati biometrici sono dati personali. ottenuti da un trattamento tecnico specifico che riguardi le caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica e che ne consentono o ne confermano, consentono o confermano, l'identificazione univoca. Tra i dati biometrici abbiamo l'immagine facciale, i dati datiloscopici, le impronte digitali, l'arcata dentale, il profilo dell'iride dell'occhio e potremmo aggiungere molto altri, ma questi sono i più noti, i più utilizzati. Sono dati biometrici. L'uso della videosorveglianza, inclusa la funzionalità di riconoscimento biometrico installata da soggetti privati per i propri scopi, non è proibita, è consentita, ma richiede il consenso degli interessati. Quando parlo di consenso degli interessati, nel caso della videosorveglianza, non immaginate che il titolare debba mettere qualcuno alla porta a dire guardate che qui c'è un sistema di videotrattamento immagini che identifica le persone sulla base del dato biometrico, immagine facciale, mi firmate l'espressione del consenso. No, fortunatamente non funziona così. Occorre mettere un'adeguata cartellonistica informativa, chiarire molto bene che c'è quel sistema che ha quella determinata finalità che può essere una finalità di marketing, una finalità statistica, una finalità di sicurezza, ma va dichiarata nell'informativa e poi bisogna dire caro signore, cari signori, se voi superate questa soglia, entrate nell'area di ripresa e siete sottoposti a un trattamento biometrico. se non volete essere sottoposti a questo trattamento biometrico potete fare una scelta diversa, dove scelta diversa può essere non entri oppure creiamo un percorso separato. Questo si può fare là dove la finalità sia di marketing o una finalità statistica. Qualcuno entra e entrerà nel cluster dei soggetti analizzati, qualcun altro non vuole essere ripreso con tecniche di riconoscimento facciale passerà da un'altra parte, ma devo dare la possibilità di scelta. Il consenso può essere manifestato attraverso una scelta chiara e inequivocabile. Non è necessario far firmare pezzi di carta. L'uso dei dati biometrici in concomitanza con la videosorveglianza come nel caso del riconoscimento facciale richiede valutazioni aggiuntive in quante tale applicazione provoca gravi impatti su interessi, diritti e libertà degli interessati. Gli impatti derivano dal elevato livello di intrusività di queste soluzioni tecniche e dalle gravi conseguenze che potrebbero derivare in ipotesi di errori, malfunzionamenti o uso fraudolento delle stesse immagini. Quindi, quando si trattano dati biometrici, riconoscimento facciale, occorre adottare misure di sicurezza più severe, occorre avere il consenso degli interessati, occorre, ma questo non è in via esclusiva, vale per tutti i sistemi di videosorveglianza, occorre fare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali. Occorre anche, come prima cosa, dare l'informativa, l'informativa sul trattamento dei dati personali, l'informativa che oggi, come già allora, ma siamo sempre più orientati da parte delle autorità su questa impostazione, viene data su due livelli. Un primo livello è il cartello, però non è il cartello, non sarà il cartello, perché siamo in un processo di attuazione di queste nuove linee guida. Dicevo, un cartello che dovrà essere come quello che vedete. Questo tipo di cartellonistica nel corso del tempo andrà a sostituire quello che abbiamo visto finora. È una cartellonistica più articolata, con un dettaglio di informazioni maggiori, perché deve essere evidente sul cartello l'identità del titolare, i dati di contatto del titolare o del Data Protection Officer, questa figura che è stata introdotta dal GDPR, deve essere specificata la finalità per cui quella telecamera è lì. La telecamera sul cancellata che protegge un piazzale sarà per motivi di sicurezza, per motivi di anti-intrusione e quello dovrò scrivere in questa sezione del cartello. La telecamera che mi punta sul silos della materia prima dell'azienda alimentare dovrà avere una descrizione diversa della finalità. La finalità non è anti-intrusione, è sicurezza alimentare, è prevenzione di contaminazioni, di atti di sabotaggio e quindi bisognerà scrivere queste cose esattamente così in questi cartelli. L'ultimo punto riguarda il richiamo ai diritti dell'interessato è aspetto nuovo e l'European Data Protection Board propone di utilizzare sistemi come il QR Code per consentire all'interessato di agganciare l'informativa di secondo livello partendo dall'informativa di primo livello. L'informativa di primo livello è un'informativa sintetica, l'informativa di secondo livello è un'informativa dettagliata che racconta vita, morte e miracoli di quel sistema di videosorveglianza. È chiaro che non possiamo fare un cartello che sia un tazzebao come usavo una volta o un manifesto in cinemascope insomma e quindi l'autorità suggerisce di utilizzare questo metodo. Cartello con alcune informazioni essenziali QR Code che richiama l'informativa completa informativa completa che può essere conservata nel cassetto della reception piuttosto che pubblicata in un'apposita sezione del sito internet del titolare del trattamento. Avete sentito mi avete sentito usare il termine valutazione d'impatto che cos'è la valutazione d'impatto? La valutazione d'impatto regolamentata dall'articolo 35 del GDPR e dice che quando il titolare di trattamento pone in essere trattamenti che sono ritenuti pericolosi per i dischi e le libertà degli interessati occorre fare una valutazione d'impatto cioè occorre che il titolare faccia tutta una serie di verifiche di analisi che adesso non vi sto a raccontare ma che è abbastanza lunga e complessa una serie di verifiche e di analisi finalizzate a stimare quali potrebbero essere le conseguenze per gli interessati nel caso in cui i loro dati personali fossero utilizzati a sproposito ovvero subissero una violazione ovvero qualcuno li manipolasse la valutazione d'impatto dice l'articolo 35 del GDPR vedete all'ultima riga deve necessariamente essere fatta quando si fa sorveglianza su larga scala in una zona accessibile al pubblico quindi non quando riprendo un pianerottolo quando riprendo una reception ma larga scala vuol dire che riprendo un piazzale riprendo una piazza uno stadio ovviamente non ne parliamo l'autorità italiana attenzione perché questa è una peculiarità italiana non europea l'autorità italiana in considerazione del fatto che noi abbiamo anche lo statuto dei lavoratori che interviene su questa materia ha deciso che l'obbligo di effettuare la valutazione di impatto viene esteso a tutti i sistemi di video sorveglianza utilizzati nei luoghi di lavoro quindi la valutazione di impatto va fatta tutte le volte che un sistema di video sorveglianza viene utilizzato in un luogo di lavoro e tutte le volte che il sistema di video sorveglianza viene utilizzato al di fuori di un luogo di lavoro ma su larga scala quindi per riprendere aree e numero di persone soprattutto quello che veramente conta non è l'ampiezza dell'area ripresa ma del numero di persone che transitano attraverso l'area di ripresa è piuttosto ampio questo numero piuttosto grande per bilanciare gli interessi occorre che il titolare del trattamento ponga in essere misure di sicurezza che possono essere misure organizzative come ad esempio stabilire che cosa succede se qualcuno non autorizzato accede alle registrazioni è meglio prevederlo piuttosto che dicer addio qualcuno è andato a vedere le immagini senza essere registrato adesso cosa facciamo facciamo una procedura che regolamenti come si agisce in questi casi abbiamo delle misure tecniche misure tecniche che riguardano la sicurezza fisica forse se è davvero così importante per me avere il sistema di videosorveglianza il videoregistratore è meglio che non lo metta al piano più basso di un rack sistemato nell'antibagno sicurezza dei sistemi e dei dati firewall antivirus password sicure di accesso per le persone che hanno l'accesso i dati se necessario anche la criptografia del dato è una interessante misura di sicurezza da adottare e che in determinate situazioni è opportuno adottare mi sento di consigliare di adottare per esempio se mi venisse in mente di sistemare una videocamera in prossimità di un reparto ospedaliero dove si curano malattie imbarazzanti diciamo così beh in quel caso lì io pretenderei che le immagini vengano criptate in modo che se qualcuno senza essere autorizzato accede a quelle immagini non vede proprio niente altre misure tecniche importanti ma l'abbiamo già visto in qualche maniera quando abbiamo parlato della privacy by default sono il controllo degli accessi cioè fare in modo che chi acceda alle immagini registrate ma anche alle immagini live quelle che si vedono sul monitor non è un caso scusate apro una parentesi non è un caso che siano sempre meno gli autogrill che hanno i monitor dei sistemi di videosorveglianza rivolti verso il pubblico una volta erano tutti così adesso sono sempre meno perché ogni tanto arriva in uno di questi qualcuno dell'autorità garante gli dice no guarda i monitor li devi girare i dati devono essere accessibili solo a chi ne ha bisogno per una finalità specifica vi ho detto delle sanzioni brevemente le sanzioni previste dal GDPR possono raggiungere livelli stratosferici la violazione dell'articolo 5 quello che abbiamo visto in apertura può essere sanzionata fino a 20 milioni di euro pensate un po' il GDPR non usa il sistema che conosciamo se violi questo sono 5 mila se violi quest'altro sono 10 mila se violi quello là sono un milione no dice fino a 20 milioni e poi raccomanda a chi deve valutare chi deve decidere l'ammontare della sanzione di prendere in esame una serie di punti e di pesarli e di arrivare a determinare la sanzione l'ammontare della sanzione sulla base dei punti che vedete elencati nella slide che vi appare dolo colpa della violazione ma salasandir mi verrebbe da dire è chiaro che se c'è del dolo la sanzione dovrà essere aumentata misure adottate per attenuare il danno dopo che si è verificato faccio niente oppure faccio qualcosa capacità anche di collaborare cooperazione con l'autorità di controllo per rimediare e attenuare gli effetti negativi se traccheggio cerco di nascondere e mi beccano mi fanno pagare molto di più di quello che mi avrebbero fatto pagare se il mio atteggiamento sono stato ok è sbagliato mettetemi in croce fate di me quello che volete ma sono qua per collaborare con voi e rimediare il malfatto gli altri due articoli che bisogna tenere in debita considerazione sono che il titolare del trattamento è tenuto ad esercire eventuali danni derivanti alle persone da un trattamento non adeguato non lecito dei dati personali ma anche dal mancato rispetto del GDPR la responsabilità ce l'hanno in solido il titolare del trattamento e l'eventuale responsabile del trattamento uve designato è la possibilità di fare un'azione risarcitoria essenzita dall'articolo 80 che di fatto anche se non usa questa parola di fatto introduce la class action perché nel momento in cui il legislatore dice che l'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo un'organizzazione un'associazione senza scopo di lutro chissà secondo me pensava alle associazioni dei consumatori che siano debitamente costituiti bla 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 nel settore può proporre reclamo per suo conto e esercitare per suo conto i diritti di cui l'articolo di 77 78 79 nonché l'articolo 82 la richiesta di risarcimento quindi di fatto l'articolo 80 sancisce la possibilità per gli interessati di esercitare una class action abbiamo e ci abbiamo la conclusione due casi specifici che prendiamo in considerazione sempre per parlare di valutazione di impatto DPA Data Protection Impact Assessment valutazione di impatto devono essere sottoposti alla verifica preliminare dell'autorità ai sistemi di videosorveglianza dotati di software che permette il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate esempio morfologia del volto con altri specifici dati personali in particolare con dati biometrici o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima questo era scritto nel provvedimento dell'autorità garante del 2010 tenete presente che la verifica preliminare non esiste più perché è stata sostituita dalla valutazione di impatto quindi mentre prima ante GDPR io dovevo fare le mie valutazioni descrivere quello che volevo fare mandarlo all'autorità garante aspettare che l'autorità garante mi dicesse va bene non va bene post GDPR non ho questo obbligo devo fare però la valutazione di impatto devo tenere la valutazione di impatto come documentazione della scelta fatta ho usato un sistema di riconoscimento facciale per questi motivi con queste misure di sicurezza ho criptato non ho criptato eccetera eccetera questo documento lo tengo lì a disposizione di chiunque voglia controllarlo e quindi dell'autorità ispettiva nel senso più ampio del termine poi i cosiddetti sistemi intelligenti in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali o di segnalarli ed eventualmente registrarli stessa cosa prima occorreva fare la verifica preliminare adesso bisogna fare una bella solida valutazione di impatto e sperare che la valutazione di impatto dia esito positivo io ho concluso l'argomento avrei molte cose da dire ancora volendo approfondirle ma sono circa 45 minuti che parlo e credo di essere riuscito ormai a fiaccare anche i soggetti più resistenti e quindi restituisco la parola al dottor Marino grazie dottor Corino prima di chiudere volevamo sottoporle qualche domanda che è arrivata dai partecipanti al webinar per chiarire alcuni concetti quindi le propongo qualche domanda in maniera da approfondire qualche concetto e chiarire le informazioni che ci sono state richieste un partecipante ci chiede se installa una telecamera sulla facciata di un'abitazione di corte dove ovviamente possono transitare altre persone residenti come devo comportarmi? su una facciata non ho capito sulla facciata di un'abitazione di corte ma adesso che cosa intenda del particolare non è descritto sarebbe importante un cortile interno suppongo così allora se questa facciata è una facciata interna quindi ci troviamo una telecamera che riprende un cortile dove transitano altre persone cioè persone di altri condomini la telecamera assolutamente deve essere puntata in modo tale da non riprendere il transito dei condomini degli altri condomini a meno che non ci sia un accordo generale tra tutte le componenti che insistono su questo cortile cioè il condominio il condominio può video sorvegliare le aree sue di sua pertinenza e non quelle di pertinenza altrui recentemente la Cassazione si è pronunciata ma è una situazione un po' diversa dicendo che pianerottoli e eventuali corridoi all'interno di un condominio sono aree disponibili a tutti e quindi possono essere riprese tranquillamente non credo però che questo principio possa essere esteso a un cortile soprattutto se è un cortile di ampie dimensioni dove magari ci sono anche come spesso succede delle aree di parcheggio e in alcuni cortili addirittura delle attività commerciali quindi in assenza di altre informazioni darei come indicazioni quella di appunto fare in modo che le aree di ripresa non invadano aree spazi di pertinenza di soggetti diversi dal condominio perfetto grazie mille inoltre ci chiedono in merito ai dati biometrici quando entro in banca e nella bussola mi si chiede di porre l'indice sul lettore posso rifiutarmi per non farmi leggere l'impronta digitale allora la risposta è faccia qualcosa di più faccia la segnalazione all'autorità garante perché da anni l'autorità garante ha scritto che questi sistemi non sono leciti non l'accesso in banca può essere regolamentato da un solo sistema di accesso che preferibilmente è quello che non utilizza dati biometrici l'accoppiamento di videocamera e sistemi di riconoscimento del palmo della mano dell'indice di altre cose di questo genere sono stati là dove c'erano sono stati pressoché totalmente eliminati se qualcuno non si è ancora accorto che c'è questo divieto è bene ricordarglielo quindi è chiaro che ci si può rifiutare di solito però se come privato cittadino ci si rifiuta la banca se ne fa un po' un baffo lasciatemi dire dice vabbè c'è un momento sono affari tuoi c'è un rapporto contrattuale un pochino sbilanciato però questi sistemi sono assolutamente illegittimi basta e avanza la bussola con il rilevamento degli oggetti di metallo e la telecamera che riprende chi può passa attraverso la bussola questo è il massimo consentito perfetto entriamo in un altro ambito perché ci chiedono per quanto riguarda dispositivi di lettura della temperatura corporea l'articolo 120 del decreto di rilancio menziona solo l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti visto che la maggior parte di questi dispositivi dispone anche di altri strumenti come potrebbe essere il riconoscimento facciale l'acquisizione di foto e video la possibilità di riconoscere se si indossa o meno una mascherina comportano una violazione della privacy questi dispositivi che hanno altri strumenti oltre la semplice lettura della temperatura corporea l'esistenza l'esistenza la dotazione di queste funzionalità a bordo di un apparato non costituiscono una violazione la violazione può nascere solo nel momento in cui l'apparato viene utilizzato in modo non conforme quindi se io ho un sistema che fa riconoscimento facciale violo la privacy se lo uso come una termocamera sganciata dalla registrazione del computer su computer dei dati rilevati se al contrario faccio la valutazione d'impatto chiedo il consenso creo percorsi alternativi a chi il consenso non me lo vuole dare questi sistemi e adotto adeguate misure di sicurezza naturalmente questi sistemi li posso utilizzare tranquillamente devo solo prestare attenzione ad adottare tutte le misure prescritte per la tutela degli interessi dell'interessato e per attuare per realizzare davvero quel famoso bilanciamento degli interessi di cui abbiamo tanto parlato perfetto invece nel momento in cui si realizza un impianto a circuito chiuso di telecamera a circuito chiuso l'installatore ha responsabilità dirette sul tema di privacy a seguito dell'installazione ma mi viene da dire che se l'installatore opera correttamente operare correttamente vuol dire fa presente al titolare del trattamento quali sono le principali norme i principali limiti che il titolare di trattamento deve rispettare ha esaurito il suo compito e ha assolto le sue responsabilità assolutamente diverso potrebbe essere il caso in cui il titolare chieda all'installatore di fare qualcosa di illecito per esempio mi riaggancio un esempio che abbiamo visto l'installatore va dal cliente ristorante che gli dice mettimi la telecamera nei bagni beh a questo punto l'installatore deve dire guarda che non va non passa nel caso in cui il titolare insistesse dicesse no caro titolare caro installatore il titolare sono io quindi tu la telecamera nel bagno la metti è buona cosa ed è prudenza per l'installatore in questo caso dire va bene io ce la metto ma tu mi metti per iscritto che mi hai chiesto di farlo dopo io ti avevo fatto presente che non era lecito perfetto quindi un'ultima domanda quale sono gli elementi che differenziano l'installazione tra un luogo di lavoro e un'abitazione privata sono molti allora diciamo che in un'abitazione privata sostanzialmente il privato fin tanto che riprende cose sue spazi suoi non ha particolari adempimenti se non quello di avvisare dell'esistenza del sistema di videosorveglianza le persone che abitualmente accedono a casa sua quindi deve porre attenzione alle aree di ripresa che non devono riguardare aree altrui o spazi comuni se ha una colf se ha una badante se ha torno all'esempio perché sono cose che succedono un amante che viene spesso a casa sua deve dire loro guardate che in casa mia c'è questo sistema di videosorveglianza ma queste due cose riprendere spazi propri e dare l'informativa a coloro che accedono abitualmente sono gli unici due obblighi che ha il privato che si installa un sistema di videosorveglianza per finalità proprie private laddove invece ci sia un ente un'organizzazione un'azienda un comune più in generale un datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza un ente pubblico che lo fa per ragioni di controllo del traffico di sicurezza nelle aree comuni allora le misure di sicurezza da adottare sono tutte quelle che abbiamo visto che vanno dall'informativa su due livelli all'adozione delle misure tecniche misure organizzative alla valutazione di impatto che abbiamo detto per l'autorità italiana a causa dello statuto dei lavoratori deve essere fatta tutte le volte che un sistema di videosorveglianza viene installato in un luogo di lavoro quindi passiamo dal minimo a un bel elenco di obblighi di verifiche che devono essere effettuate e di misure di sicurezza che devono essere adottate benissimo i partecipanti sono molti sono arrivate anche molte altre domande ma visto che il tempo a nostra disposizione è scaduto risponderemo via mail a tutte le altre richieste di informazioni quindi ringrazio vivamente il dottor Corino per la splendida presentazione e per la sua collaborazione nel webinar grazie a voi ringrazio anche tutti i partecipanti per la vostra partecipazione numerosa e spero che il corso sia stato di vostro gradimento e sia dimostrato utile a chiarire o apprendere nuove informazioni in un ambito in continua evoluzione prima di riasciarci vi do l'appuntamento al prossimo webinar del 16 giugno dedicato ai sistemi anti-intrusione URMET cablati a radio Zeno e 1068 vi saluto augurandovi una buona serata e visto che siamo arrivati al fine settimana buon weekend a tutti grazie ancora buonasera buon weekend grazie a tutti